Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Stenta ad entrare nel vivo il dibattito sulle candidature al comune di Avellino. Si attendono le decisioni del commissario prefettizio sul dissesto o predissesto. Una decisione da non prendere a cuor leggero, ribadiscono dalla provincia i sindaci che il dissesto lo hanno già dichiarato. È il caso di Montemiletto dove il sindaco Frongillo si è rimesso ai numeri forniti dai revisori ma che ora deve fare i conti con i tagli dei servizi, tasse al massimo. La scelta è tra alzare bandiera bianca, azzerare e ripartire o spalmare il debito e riprogrammare. Tornando ad Avellino chiede al commissario di uscire allo scoperto l'ex consigliere Dino Preziosi. Decidere o rinviare alla prossima amministrazione, Priolo sciolga i nodi. Se anche questa triata di commissari vuole venire qua e coprire debiti certi con vendite incerte significa che delle due l'una o che non vogliono approfondire la verità sui conti del comune oppure non hanno intenzione di assumersi responsabilità, chi viene appresso se le canta. Se si passa un piano di riequilibrio come quello presentato io penso che sarà bacciato dalla Corte dei Conti. A questo punto mi solge spontanea la domanda ma questa triata che sta studiando da due o tre mesi che cosa sta facendo? Si è fatta un'idea di quelli che sono i reali conti del comune? E su una candidatura, capo del centrodestra, Preziosi dichiara. Assolutamente no, io sto costruendo un programma e cerco di realizzare un progetto civico. Chi ci vuole stare ci sta, chi non ci vuole stare non ci sta, se non ci riesco non è detto che mi debba candidare.